E' accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni per aver aggredito una guardia giurata in servizio alla sede di Arezzo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Per questo sono scattate le manette per un cittadino di origine straniera. L'episodio lo scorso lunedì in Corso Italia, dove l'uomo ha dato un'escandescenza aggredendo l'addetto alla sicurezza che per difendersi ha dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino. Sul posto le volanti della questura di Arezzo che hanno cercato di convincere l'aggressore e a seguirli per alcuni accertamenti. Ma a questo punto l'uomo ha cominciato di nuovo ad alterarsi arrivando addirittura ad afferrare la fondina di uno dei poliziotti. I colleghi gli sono piombati addosso e lo hanno immobilizzato in tempo per scongiurare il peggio. E' stato portato in questura e sono state raccolte le testimonianze sia del responsabile dell'agenzia bancaria che della guardia giurata aggredita che ha dovuto far ricorso alle cure mediche per le lesioni riportate. Al pronto soccorso si è recato anche un agente di polizia. L'uomo è stato a foto segnalato e tratto in arresto. A conclusione del processo per direttissima è arrivata la convalida con la misura della custodia cautelare in carcere.